Gian, innanzitutto complimenti. Primo gol in Serie A, con una dedica anche speciale, no? Perché era una settimana particolare per te. Sì, è una settimana molto particolare. L'anno scorso ho perso il mio papà e questo gol è per lui. Sì, tutti sappiamo quanto hai sofferto e siamo stati vicini. Ti chiedo, adesso, il Gian che va in campo, anche oggi, segna e fa una grande partita. È un giocatore più forte e sempre più consapevole dei tuoi mezzi. Sì, sì. Questo è il principio di tutta la stagione. Devo fare ancora di più e sono molto felice. Però il più importante è la prossima partita. La prossima partita con la Salernitana per chiudere a meglio il 2021. Però stasera abbiamo visto una grande udinese, una vittoria netta contro il Cagliari. Sì, sì. Una grande vittoria. È molto importante per noi perché abbiamo bisogno di punti e per questo sono molto felice della squadra. A proposito di motivazioni, quelle che vi dà Mr. Cioffi, anche in panchina, negli allenamenti, questa grande carica. Quanto è importante per tutto il gruppo, ma anche per te? Perché lui è arrivato, tu sei tornato a giocare subito nel ruolo di Mezzala, quello tuo naturale. Grandi partite, prestazioni convincenti per te e per il gruppo. Sì, lui è molto importante per me. Dal primo giorno qui all'Udinese, lui era sempre con me, mi dà molta fiducia. E io voglio anche dare il ritorno, la fiducia.